Sono finiti in manette i tre albanesi che la sera del 21 gennaio hanno aggredito un connazionale a Ravenna a colpi di coltello, lasciandolo agonizzante fuori dall'entrata di un bar. Si tratta di due uomini, uno di 41 e l'altro di 38 anni, e di una donna di 33, identificati tramite il sistema di video sorveglianza posto all'interno del locale dove è avvenuta l'aggressione. Nata, sembrerebbe, per futili motivi. I tre albanesi in trasferta a Ravenna avevano necessità di rintracciare un'abitazione, comunque una situazione, una sistemazione alloggiativa e da questo impegno si è sottratto la vittima che è stata coltellata. Un'indagine non semplice, quella dei carabinieri, che dopo aver identificato i colpevoli, hanno dovuto muoversi parecchio per riuscire a rintrazzarli. Siamo stati costretti, per modo di dire, a muoverci sia a Napoli, dove è stato catturato il 41enne, il più anziano, a Fano, l'altro uomo e la donna. La donna è stata sottoposta a fermo di indizio di diritto nel corso della fase operativa, perché l'abbiamo individuata con certezza, una volta giunti a Fano, perché occasionalmente l'abbiamo vista e una volta sottoposta a fermo di identificazione è stato possibile accertare che fosse la terza complice, al momento mancante. I tre fermati si trovano ora in arresto presso la casa circondariale di Napoli e Pesaro con l'accusa di tentato omicidio, epilogo di una vita criminale che i tre portavano avanti da tempo, almeno stando alle dichiarazioni di uno di loro. Sì, in maniera molto candida, detto che viveva di reati contro il patrimonio, commessi anche in Germania, perché si muovono, oltre che in ambito nazionale, anche fuori dai confini. Grazie. 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 Grazie.